L'estate a Napoli continua e con settembre si arricchisce la programmazione delle iniziative culturali promosse dal Comune. È un cartellone fitto che intreccia turismo e tradizione, quello presentato in sala giunta dal sindaco De Magistris con l'assessore Nino Daniele per la rassegna September More, un mese di eventi e spettacoli che attraversano gli appuntamenti più sentiti per la città, dalle feste religiose di Piedigrotta e San Gennaro nell'ambito del progetto I Magomundi all'avvio della stagione del cinema che si inaugura con il Napoli Film Festival. Settembre a Napoli è il mese delle feste religiose, quindi il Comune di Napoli partecipa a queste celebrazioni innanzitutto cercando di valorizzarne, di riprenderne, di continuare nell'opera di rilancio di alcune iniziative che hanno un grande valore storico, cortè in costume, poi vorrei ricordare alcune bellissime serate dedicate a Fabrizio De Andrei, al suo rapporto con Napoli. Tra gli appuntamenti di settembre ci sono mostre al PAN, spettacoli al Maschio Angioino, al Convento di San Domenico, alla Casina Pompeiana e il cinema all'aperto al Parco del Poggio. Un programma che ci accompagnerà fino agli inizi di ottobre, molto ricco, pieno di iniziative in tutta la città, di grande livello, un ringraziamento a tutti gli operatori culturali, gli artisti che stanno dando grande entusiasmo e grande passione, poi anche un'apertura a iniziative non solo napoletane a dimostrazione che Napoli si apre sempre di più alla cultura di livello nazionale e internazionale. Veramente credo un programma straordinario, ricchissimo, interessantissimo, innanzitutto per i numerosissimi turisti che abbiamo visto presenti a luglio e ancor più ad agosto e già si annunciano altrettanto numerosi a settembre per i nostri concittadini e penso che Napoli a settembre è una delle città culturalmente più vivaci dell'intero panorama nazionale.